Nel video di oggi voglio fare con voi un po' di sperimentazioni particolari. Questa alla mia destra, che voi a malapena probabilmente vedrete, è una build top di gamma, che include componenti, insomma, di fascia alta, ma principalmente quello che ci concerne e interessa, è la RTX 4090. Attualmente è la migliore scheda video gaming, non solo sul mercato consumer, ma in generale. Offre delle prestazioni veramente pazzesche ed è condivisa da una porzione, almeno per quanto ci dice il survey di Steam, veramente piccola della popolazione. Abita al fondo delle classifiche. Giustamente, sono 2000 euro di scheda e chi vuole spenderli? Però andiamo a vedere un pochettino cosa offre una cosa del genere, ma soprattutto sperimentiamo un po' con queste tecnologie estreme di Nvidia. Path tracing, full ray tracing, vediamo un attimino che cosa offre il mercato nell'ambito delle top di gamma, ma soprattutto ragazzi io vi chiedo 2000 like e 100 commenti, molto semplici, per fare un video analogo in cui facciamo la stessa cosa ma con una build di fascia bassa e vediamo un pochettino come se la cava nel 2024 contro giochi moderni, facciamo un pochettino un'analisi qualitativa della cosa. Adesso direi che possiamo iniziare. Sono anche molto curioso perché ci sono tanti giochi che ho giocato poco per questioni di tempo e mi darà l'occasione per provarli un attimino e vedere come se la cavano. Iniziamo con Black Myth Wukong, che effettivamente è uno dei giochi più recenti, ha full ray tracing ed è veramente pesante e ha oltretutto una modalità ulteriore sopra quella che serve la teorica ultra che si chiama cinema, un massacro. Ideale per le top di gamma e per vedere dove si possono spingere. Wukong però io lo gioco con il controller perché è decisamente meglio, ovviamente glorioso controller Xbox. Quindi siamo nelle impostazioni, come potete vedere il preset è cinema, ma ancora non attiviamo il ray tracing, gli diamo il beneficio del dubbio con il DLSS, che vi assicuro in questi casi è veramente necessario, tutto cinema, molto semplici le impostazioni. Ok, devo dire che la grafica di questo titolo è veramente incredibile, cioè l'immersività delle piccole scene e già prima del ray tracing comunque se la cava particolarmente bene in questo caso. Per esempio, guardate tutte quante le foglie animate, perché c'è il raggio di luce che arriva da quella zona. Il fatto è che ovviamente questi qui sono effetti presimulabili, nel senso che sono già preparati da loro. Quello che effetti come il ray tracing e altri aggiungono non è tanto questo, quanto più la qualità dei riflessi generati dinamicamente all'interno di un titolo, quindi di per sé se ci fosse una grossa esplosione improvvisa, l'ambiente verrebbe modificato sulla base dei raggi di luce che vengono inviati da quella particolare esplosione, che prima non c'era. Quindi magari appunto queste foglie che cadono dovrebbero generare delle ombre, e in questo caso non lo fanno, nonostante dinamicamente effettivamente stiano cadendo. Nella luce potete vedere che non ci sono ombre, nonostante ci siano tutte queste piccole foglioline che cadono, come questa che mi è appena caduta di fianco. Vediamo se attivando il ray tracing invece si vedono. Caricamenti di Black Mifu Kong, notavo che mettono sotto carico pesantissimo il processore. Guardate, siamo a 87, 90 gradi e 150 watt, che calano man mano che il caricamento arriva a conclusione. Deve esserci una sorta di precaricamento shader particolare. Ok, adesso abbiamo il ray tracing. Prima cosa che noto subito rispetto a prima è i piccoli riflessi sugli oggetti. Tipo se vedete qua davanti di fianco alla testa del personaggio c'è questa piccola foglia. Se vedete le foglie in quella zona, man mano che muovo la telecamera, cambia l'inclinazione di come la luce si rapporta con esse. Cioè il ray tracing sta aggiungendo giustamente il tracciamento dei raggi della luce. E effettivamente questo è quello che mi aspetterei da una forte luce che arrivi a destra. Deve essere forte, quasi accecante, devo faticare a vedere i dettagli. Ha molto molto senso, è molto realistico. Adesso per esempio io sto passando qui, qui c'è un fuoco. Se io passo davanti io proietto un'ombra. Figo. Ok, sì, no, il ray tracing e la grafica di questo titolo sono incredibili. Io giustamente qui proietto un'ombra, ma questo c'è in tanti giochi, non è niente di che. Una cosa che secondo me il ray tracing dovrebbe fare, che purtroppo ancora nei giochi non ho visto, ma c'è un motivo specifico, è la parte dei riflessi dell'acqua. Vedete, qua c'è l'acqua per esempio, abbiamo tutti i riflessi su di essa, perché la superficie dell'acqua è effettivamente un oggetto a parte. Però essendo che l'acqua non viene simulata, perché sarebbe un peso assurdo per le build anche di fascia media, ma anche top di gamma, ve lo dico. L'acqua è un oggetto, è una texture, una roba del genere, da quello che ho capito dai video che ho visto. Ed effettivamente con ray tracing io qui mi aspetterei che l'acqua, avendo della luce che ci rifrange sopra, proiettasse dei piccoli riflessi su questa roccia. Se siete mai stati al mare con degli scogli vicino all'acqua, avrete notato che quando il sole è praticamente diagonale, la luce arriva e viene proiettata in diagonale sugli oggetti vicini. Giustamente fa un riflesso la cresta alla parte superiore dell'acqua. In questo caso, per esempio, io con ray tracing mi aspetterei che ci fosse, insomma, qualcosa qui. Se non gioco con così tanto ray tracing me lo sarei anche aspettato, però so che l'acqua è complicatissima, è uno degli elementi che può diventare più pesanti in assoluto in un gioco. Vediamo se le foglie proiettano ombra. No? Ok, probabilmente per alleggerire non l'hanno fatto. Queste foglie cadendo in maniera dinamica e casuale non proiettano ombre. Wow, guardate il riflesso in questa pozzanghera. Mamma mia i dettagli. Mamma mia, la grafica di sto gioco è assurda. Parliamo però un pochettino delle prestazioni, come se la sta camando sta build top di gamma. Allora, devo dire, nonostante il ray tracing e la modalità cinema, ma comunque l'esperienza è godibile. Con il DLSS siamo sui 50-60 fps, che vi dico, per un simil source like è una buona esperienza, nel senso va benissimo. Molte persone ci hanno giocato, per esempio, Elden Ring anche su Steam Deck, e sono riusciti a finire il gioco, io incluso. Quindi di per sé non malissimo. Oh, non ho abbastanza mano. Ah, ma io non ho niente. Non è che non ho abbastanza mano, figlio mio. È perché sto continuando a uscire, a rientrare dal gioco, a prendere botte per spiegare le cose. Allora, consumi. Devo dire, i consumi della 4090, nonostante siamo in una situazione di carico veramente importante, non sono poi così alti, perché effettivamente siamo sui 360 Watt, a cui si aggiungono 115, però del 9950X, che continuo a dire è un processore particolarmente energivoro. Per il resto, in realtà, l'esperienza sembra piuttosto solida. In alcuni casi, in questo gioco, ho sperimentato dei casi di frame starter, abbastanza importanti, ma dipende dalla situazione. Qui, nonostante l'esperienza cinema e il ray tracing attivati, effettivamente noto che non ci sono particolari problemi. Io vi dico, il ray tracing non è vitale, e probabilmente aggiunge un peso veramente importante a quella che è l'esperienza, magari facendoci perdere anche un 50%, però vedere questi fasci di luce proiettati in maniera esatta è una goduria per gli occhi, veramente. Allora, vediamo una cosa. Se io mi metto qua davanti, io ho un'ombra, ma se io tipo mi trasformo, quell'ombra viene proiettata? Non mi è sembrato, no. Non mi è sembrato che il coso abbia causato delle ombre, nonostante fosse molto alto. Devo dire, situazione onesta, non ho utilizzato la Frame Generation, ma perché? Se utilizzassimo la Frame Generation, come potete vedere, saliamo ad un cospicuo 96-95 fps. Personalmente non sono un fan della Frame Generation in giochi tipo Souls-like, o comunque con alto margine di precisione necessario, perché potrebbe essere che in qualche modo interferiscano con quello. Quello che vi posso dire è che questo gioco ha dei casi di frame starter, nel senso che ci sono state più situazioni in cui inserendo appunto il ray tracing e il cinema ho notato che il processore faticava a starci dietro. Passiamo al prossimo gioco. Allora, solo per il meme ho aperto Counter-Strike 2 che potete vedere qua, ed effettivamente devo dire, prima di tutto, chapeau. Erano tanti anni che non aprivo un Counter-Strike e la grafica è migliorata di 10.000 volte. Sembra di guardare un altro gioco, forse ho una brutta memoria di sto gioco, ma le texture sembrano 20 volte meglio. Incredibile. È finalmente un gioco apprezzabile. Ma soprattutto, posso dire che il menu delle impostazioni video è fatto benissimo. Prima di tutto funziona molto meglio di quello precedente che ricordi di Counter-Strike Go. Però, effettivamente, guardate, cioè, puoi zoomare sulle cose e vedere le differenze delle impostazioni grafiche che imposti appunto all'interno del menu. Puoi anche chiedere di ingrandire di più. Cioè, tipo, puoi vedere le differenze nelle texture. Che figata! Magari tutti i giochi facessero sta cosa! Comunque ho messo tutto ad alto, ma volevo soltanto sapere quanti FPS riesco a fare, ma non mi si avvia il counter degli FPS. Secondo me lo rileva come cheating, quindi me lo toglie. Qualcosa mi sta sparando e uccidendo. Ok, più che altro volevo vedere quanti FPS riesce a fare una build del genere. Vediamo un pochettino. Quindi siamo sui 260 FPS. Posso dire che me ne aspettavo molti di più, però ideale per chi gioca con 4K 240Hz, dai. Ti godi una bella grafica, ma onestamente se giochi competitivo al 90% non giochi così. Onesto, sì, 250 FPS lassù. Carino! Belle le nuove texture! Grande Valve! Grande Valve! Prossimo gioco! Vi giuro, dico vi giuro, che niente è più pesante della compilazione delle shaders. Ti manda il processore al 100%, 95 gradi, 200 Watt, è un massacro. Horizon Forbidden West. Gioco a cui purtroppo non ho ancora avuto modo di giocare in maniera estesa, perché ho poco tempo e Age of Mythology ne richiede tanto. Allora, visivamente questo gioco è una figata. Cioè, non ha senso. Non ha senso quanto è bello sto gioco. E non è nemmeno nuovo in realtà. È nuovo per noi PC Gamer, ma non lo è per tutti. Cioè, ma guardate il livello di dettagli, dei riflessini sulla testa, la qualità delle texture dei capelli. Wow! Andiamo a vedere un po' le impostazioni. Gran, gran menu per questo gioco, devo essere onesto, guardate. Se vedete lì sulla sinistra, potete notare la deformazione che causano gli anti-aliasing, in questo caso FSR 3, XS e DLA, direttamente sui, per esempio, quei piccoli dettagli dei cespugli rossi lì a sinistra e le loro piccole parti bianche. Devo dire che dei tre, il DLA e l'XS sono molto molto simili all'FSR. Se la cava proprio bene. Passiamo invece a un upscaling come il DLSS. Ah, vabbè, no. In questo caso devo dire che in termini di upscaling, XS, FSR e DLSS se la stanno cavando praticamente uguali. Però mi sa che non sta modificando niente perché da qualità a prestazioni ultra non cambia niente. Interessante, puoi usare alternativamente sia l'FSR 3 che il DLSS. Figo. Purtroppo questo qui è uno di quei giochi su cui avrei genuinamente voluto vedere il ray tracing perché secondo me è un titolo che se lo meritava, però giustamente. È un gioco PlayStation, quindi questo tipo di tecnologie le vedono meno questo tipo di cose, però devo dire che i livelli di riflessi comunque non sono fatti male. Anche se continuo a dire che l'acqua è un incredibile elemento di contorno per tantissime cose, ma se preso singolarmente e guardato meglio è veramente così strano, è un oggetto così irrealistico. Però devo dire che qua ci sono comunque dei riflessi. Qua la stessa cosa che vi dicevo prima in Wukong. Io qua, cioè io per esempio qui sotto mi aspetterei di vedere dei riflessini dell'acqua attraverso appunto la luce che filtra da lì sotto e in quella zona dovrei vedere qualcosa. In questo caso non succede. Però devo dire che l'acqua non è fatta per niente male, anche se continua ad essere un elemento molto falso nei giochi. Esperienza di gioco devo dire in termini di FPS solidissima. Cioè proprio zero problemi. Siamo in 4K, impostazioni tutte al massimo. Abbiamo il nostro piccolo DLSS di supporto che però nella versione qualità non influenza pressoché niente sulle parti invece per quanto riguarda la resa grafica. Ci dà solo più FPS. E devo dire figo, molto figo. Secondo me questo qui ci ho giocato qualche oretta, insomma, giusto le prime parti. Anche più che altro per testare qualcosa. E cavolo. Visivamente non è al pari di Wukong. Secondo me siamo lontani. Però su uno schermo OLED è uno di quei titoli che mi fa proprio dire cavolo, per fortuna ho un Q di OLED e posso utilizzarlo perché è incredibile. Figo, figo. Sì, no, visivamente questo titolo è incredibile. 130 FPS. Devo dire, anche in questo caso è esperienza godibilissima. Nel senso, siamo sopra i 100 FPS in 4K. Sicuramente, vabbè, è un gioco un po' più vecchio. Quindi, giustamente, non è una sfida eccessiva. Però il livello di dettaglio e la qualità grafica qui, nonostante l'assenza di tecnologie come il deray tracing... Figo, 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 figo. Vediamo qualcosa di più pesante. Alan Wake 2. Gioco che distrugge le build, le schede video, tutto. Grafica abbiamo, quindi, full screen, 4K puro con DLA, quindi semplicemente miglioramento dell'immagine. Quality preset? No, secondo me... Allora, no, aspettate. Lasciamolo un attimino così e vediamo un attimo l'esperienza com'è. Niente ray tracing, niente ray reconstruction, ci sta. Va bene. Allora, esperienza di gioco. Devo dire, per la dinamicità di questo titolo, chiaramente, non servono 200 fps. È un titolo molto pesante, gode di una buonissima grafica. Guardate che belli riflessi della luce, della luna, credo, su questi cosi. Molto figo. Forse in realtà è il sole, perché sembra abbastanza giorno. Veramente bello graficamente. Belli gli elementi. Bello il fatto che la pioggia intanto cada sui tuoi occhi, come se stesse cadendo, appunto, nell'autovisuale. Bellino. Siamo sui 50 fps stabili. Carino l'effetto qua, nonostante l'assenza del ray tracing, comunque ci sono dei riflessi validi. Ci sta assolutamente. Nel senso, l'elaborazione è buona. Adesso non rendiamo uno slideshow. Preparatevi. Option. Allora, dovete sapere che una 4090 può fare 30 fps se vogliamo. Mettiamo il post processing ad alto. Mettiamo la volumetrica qua dello spotlight ad alto. La risoluzione delle ombre ad alto. Bellissimo. Tutto, tutto, tutto alto. Arriviamo al ray tracing, glielo mettiamo high. Mettiamo l'area reconstruction, perché sennò mi esplode il pc. Dio santo, fatica a mettere l'opzione. Bellissimo. Tutto high. Ok. Vediamo quanti fps facciamo. 20. Guardate il frame time, quanto era più basso prima. Orca. No, vabbè. No, raga. È terribile. Sembra tipo che ci sia qualcosa che mi sta muovendo la telecamera, me la sta facendo micro vibrare. Guardate l'inquadratura tipo del 3. Guardiamo l'acqua. Voglio vedere i riflessi perfetti. Sì, non vorrei dire, ma lasciamo, mi sa, l'impronta dei piedi. Guardate il riflesso di questa pozzanghera. Guardate come compaio, cosa succede. Posso vedere le scene, potrei giocare da questo riflesso. Wow, bellissimo, sì. 20 fps. Wow. Bellissimo. Magari gli diamo un po' di DLSS e vediamo un po' dove possiamo arrivare. Questo è il primo gioco che mi fa pensare che forse io possa volere una 590. Mettiamo tipo balanced, vediamo se recuperiamo un po'. Eh, ok, ok, già meglio, 45 fps. Ok, non abbiamo perso neanche niente in termini grafici. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, riguardiamo lui. Eh, sì, sì, no, 50 fps è decisamente molto meglio. Proviamo a metterglielo ancora più basso, tipo performance. Ok, adesso è vivibile, siamo a 60 fps, 55-60. Indubbiamente la qualità grafica rasenta l'inumano. Bello. Però devo dire che la differenza tra prima e adesso non è così tanta. C'è qualche dettaglio che noto a occhio, qualche piccola cosina che magari si può aggiungere ai dettagli, ma niente di pazzesco. Nel senso, secondo me anche giocare senza in questo caso va benissimo. Nel senso, se prendo questo e tolgo completamente la parte di path tracing, la mando totalmente off, ma lascio invece il ray tracing, ho un'esperienza nettamente migliore e probabilmente posso togliere il DLSS. Vediamo, andiamo in DLA. Uh, è comparsa una marea di vegetazione. Quanti dettagli in più. Wow, no, ferma tutto. Quanto è influente in negativo il DLSS. Allora, questo qui è il prima e questo qui è il dopo. Sì, c'è una differenza sostanziale nei dettagli delle foglie. Effettivamente si nota appena usciti dal menu perché è abbastanza sensibile, sì. Titolo che ha bisogno del DLSS, raga. Ha bisogno del DLSS se raggiungiamo, se vogliamo usare il ray tracing anche con una 4090. È assurdo. Cioè, il livello di dettagli, di cosine in giro è incredibile. Resenta l'impossibile. Questo su un QD OLED è il sogno. È proprio il gioco per i QD OLED insieme a Horizon. Prossimo gioco. Questo è anche il primo titolo che vedo mettere in ginocchio la 4090. Spaventoso da vedere come cosa. È una cosa che non spereresti di vedere a soltanto due anni di distanza. Però è anche uno dei primi giochi che mi faccia dire wow insieme a Wukong. Stiamo andando nella direzione giusta. Sapete, secondo me, qual è un titolo che ci farà apprezzare tantissimo il ray tracing e le schede video che appunto lo supporti, no? Half-Life 2 Remix. Secondo me quando uscirà quel titolo ci sarà una grande attenzione al ray tracing perché ha tante luci che sono state dinamicizzate rispetto a prima e che effettivamente con esplosioni e altre cose rendono tanto bene. Sono molto curioso. Cyberpunk 2077 con il pat tracing. Questo probabilmente ci distrugge allo stesso livello. Ok. Partiamo Shally con Cyberpunk. Mettiamo Ultra. Togliamo il DLSS. Gioco del 2022. Sarà che era facile. È un gioco oltretutto uscito proprio in contemporanea con la scheda video. Quindi è pane per i suoi denti. È nato per questo. Ma voi ve lo ricordate quando Cyberpunk aveva talmente tanti bug al lancio che c'era la gente in T-Pose quando entravi nelle stanze così? Top del gaming! Red CD Project Red lì aveva perso tipo il 90% del suo valore azionario per colpa di sta cosa. Faceva troppo ridere. Allora devo dire gioco leggero ma comunque neanche tanto. Cioè comunque in 4K 50 fps molto... Non troppo leggero ecco nel senso si potrebbe avere di meglio. Nel senso esperienza godibilissima Cyberpunk secondo me fino ai 120 fps, 144 fps migliora l'esperienza in generale di gioco. È uno di quei titoli che un po' del dinamismo del refresh rate più alti ne gode in positivo. Però effettivamente parlando comunque anche a 60 fps come ci ho giocato la prima volta perché ancora non avevo mica una 4090 e tutte ste robe. Non se la cava male. Comunque per essere un gioco del 2022 devo essere onesto è veramente pesante. Cioè guardate anche il consumo della scheda video. Siamo a 350, 390, quasi 400 come range di... Vuol dire che la scheda video è sotto torchio in maniera pesantissima e sta faticando effettivamente ad elaborare la scena. Cioè sta utilizzando il pieno del suo potenziale. Oltretutto sì, anche l'eventore comunque per quanto sia molto silenziosa questa scheda video si sente. Nel senso non male, non male. Il processore comunque insieme stanno arrivando ai 500 e passa watt. Non poco, non poco in assoluto. Ok, adesso lo rendiamo uno slideshow. Impostazioni, grafica. Allora, cosa ci mettiamo? Ci mettiamo il ray tracing, i riflessi ray tracing, ombre ray tracing, ombre le luci locali. Ci mettiamo l'illuminazione ray tracing a folle. Ci mettiamo il path tracing. Sono pronto a detonare. Mamma mia, non oso immaginare. Sta roba sarà incredibile dal punto di vista tecnico. Ci serve il DLSS però. Allora, aspetta. Prima di tutto proviamo senza DLSS e vediamo dove arriviamo. 20 fps! Let's go! Non riesco manco a guidare! Allora, graficamente vedo qualche migliorea sulla parte della capotta della macchina. Però oggettivamente parlando, raga, è diventato uno slideshow. Vediamo un pochettino il frame time. Cioè, siamo passati da... Wow, siamo a quasi 50, sì, siamo a 50 millisecondi di frame time. Ragazzi, sembra di essere tornati alla PS2, vi giuro. Se non fosse un gioco, ma fosse un film, vi dico che non sarebbe male, ma il fatto di dover controllare la scena è un problema. Cioè, nel senso, lo rende faticoso. Però posso dire che effettivamente l'effetto finale, almeno in condizioni normali come queste, non è poi così incisivo. Cioè, devo andare a fare un po' di cherry picking per quanto riguarda le scene e trovare magari qualcosa che effettivamente avvantaggi il gioco, in questo senso, nel mostrare il pad tracing. Sì, siamo sui 30 fps. Sì, comunque, cioè, la qualità grafica c'è tutta, ma devo dire, non è migliorata così tanto da farmi sentire la necessità di giocare con 30 fps. Poi, chiaramente, ancora dobbiamo attivare il DLSS. Altro titolo che comunque ci fa capire che in raster puro, anche la 4090, prima o poi diventerà una scheda che, insomma, deve un attimino fare i conti con tutto. Guardate i riflessi su questa pozzanghera. È uno specchio, sta pozzanghera. Guardate i riflessini sulla macchina che sono perfettamente sovraesposti perché l'inclinazione della luce rifrange nei nostri occhi. Oh, il flare! Il flare! C'è il flare che ti si riflette negli occhi nel momento in cui... Oh, guardate qua, guardate qua! Mamma mia! Mettiamo adesso il DLSS per giustizia perché comunque è una tecnologia di cui possiamo avvalerci nell'eventualità in cui si voglia fare. Però, aspettate, che passo al mouse che faccio prima. Ok, DLSS, mi dai l'equilibrata, mi dai il Ray Reconstruction, mi dai la Frame Generation. E abbiamo esattamente la stessa cosa, grandi linee, forse c'è una texture leggermente più scanalata, non mi sembra ugualissima a prima, però stesso effetto di luce di prima con questi due arcobaleni. Ma abbiamo 102 fps e guardate comunque i riflessi in queste pozzanghere sono incredibili. Mamma mia, si può leggere la scritta lì, Wild Blue, con una precisione? Vorrei che passasse un aereo, vi giuro. Wow! Ovviamente ragazzi, sono tutte pippe mentali per chi arriva già al massimo e vuole avere il massimo del massimo, però di per sé è veramente figo vedere questa tecnologia. Cioè, guardate qua il riflesso effettivo, quanto è sovraesposto in maniera esatta. Cioè, è proprio come lo vedresti nel mondo reale, sarebbe una luce fortemente sovraesposta, non una semplice luce. Se adesso io prendo e tolgo il Ray Tracing, dovrebbe peggiorare in maniera sensibile. Non è cambiato un cazzo. Signori, ho appena scoperto che il flaring che stavamo vedendo è intrinseco nel gioco, così come i riflessi sovraesposti. Non è Ray Tracing. Però, se andiamo a vedere adesso le pozzanghere, come potete vedere l'effetto del riflesso è molto meno nitido. Prima erano praticamente degli specchi, quindi di per sé era quello. Però pensavo che anche il riflesso lì, in termini di flare, fosse parte del Ray Tracing, devo essere onesto. Probabilmente, guardate, se ci fermiamo così, guardate questo qua. Cioè, la differenza è importante. È comparso il palazzo. Oltretutto, guardate la sovrapposizione del riflesso su un altro oggetto. C'è la distorsione del cosino lì all'angolo. Uh, figo. C'è proprio un livello di luci completamente diverso. Allora, c'è quest'ombra che si sta muovendo. Potete vedere come anche l'ombra migliori, effettivamente. Smette di essere un cubone e diventa un insieme di piccole particelle che compongono un'ombra. Molto più realistico, perché alla fine, nella realtà, da lassù non sarebbe un semplice oggetto. Sarebbe, appunto, un riflesso così. Sarebbe più complesso in base anche all'intensità di luce dalla zona, dal punto dell'oggetto rispetto alla luce. Figo. Siamo a 100 FPS con il DLSS, quindi ancora vivibile. Probabilmente, secondo me, questa è l'esperienza di gioco che ci si potrà aspettare dalla 5090 in raster. Grandi linee. Forse qualcosina di meno, perché comunque il DLSS con Frame Generation è abbastanza impegnativo. Prima di passare ad un altro gioco, volevo soltanto farvi vedere un secondo la complessità di un riflesso che ho trovato. Cioè, guardate. Allora, praticamente siamo in un tunnel. Quindi ci sono questi oggetti metallici che qua sopra sembrano non riflettere, almeno apparentemente. Ma nella pozzanghera, come potete vedere, riflettono le macchine che stanno passando. Cioè, stiamo guardando da un riflesso di un riflesso una cosa. E anche qui sulla macchina c'è un riflesso incredibile. Eccolo. E lui. Fuori di testa. Stiamo guardando un riflesso di secondo livello. Ok. Adesso andiamo su uno dei miei preferiti, un po' più leggero. È il Divers. Vediamo un pochettino se riusciamo ad arrivare magari a 200 FPS. Qualcosa del genere. Sarebbe galattico in tutti i sensi. Ok, ci siamo. Vediamo un pochino. Siamo in 4K, tutto sparato. Inutile dirlo. Neanche lo sentiamo. Vabbè, ma questo gioco... Oddio, in realtà un po' lo sentiamo. Comunque il Divers non è leggerissimissimo. Siamo sui 100 FPS in 4K prima di passare alla rimodulazione. E se non mi ricordo male, non c'è nessun tipo di upscaling in questo gioco. Almeno non di quelli come il DLSS. Ne ovviamente il ray tracing sarebbe un po' assurdo. Diamo un secondo, un'occhiata alle opzioni. Allora, mettiamo tutto al massimo e vediamo dove ci porta. Tattattattattattattattattattata. Sì, sì, non c'è il DLSS in questo. Ok, adesso è ufficialmente tutto, tutto sparato. Siamo a 98 FPS. In realtà la grafica di questo gioco per me è invidiabile. Nel senso, non è livello pad tracing e cose così, però per quanto pesa, secondo me è una resa veramente eccellente. Le ambientazioni sono molto piacevoli e in generale non è per niente un brutto gioco. Sì, in generale vivibile e piacevole. Come al solito, è il divers non delude Vabbè, niente da dire Spider-Man, 4K senza DLSS, 100 FPS Ha malapena percepito Però con qualche frame starter Penso sia stata più che altro la scena Visivamente sto gioco è incredibile Cioè, giochi del genere Se gli aggiungessero ray tracing o robe del genere Sarebbero inimitabili Ma in realtà non ne ha bisogno Non ne ha proprio bisogno 100 FPS, 4K, visual incredibile Bellissimo landscape e tutto quanto Fantastico, niente da aggiungere Manco percepito 80 FPS, sì, ma al più C'hai ancora la carta del DLSS O di abbassare Ovviamente noi stiamo sparando tutto Come una top di gamma vorrebbe Cioè con tutto a super, ultra, alto Cose così, insomma Tutto al limite Però qualche piccolo calo Per quanto riguarda la parte di starter Su quello ancora Siamo sempre verso la metà Però ci sta Ma sì, dai Hogwarts Legacy Tutto quanto ad ultra Ray tracing attivato Blah 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 C'è un fortissimo input lag Devo essere onesto Cioè nel senso Sto subendo dell'input lag Forse è la frame generation Oh damn Sì, è sparito Sparito l'input lag La frame generation Stava influendo molto negativamente Perché ho un numero di FPS Bassino di base Ma in realtà Con il DLSS Siamo sulla sessantina Il frame starter di questo gioco È incredibile È fastidiosissimo Come poche cose Ma sì Una settantina di FPS Facili Guardate lì I riflessini Del nostro Lampadario Della nostra lampada Sul pavimento Di marmo Mamma mia Guardate qua Il riflesso del soffitto Dinamicissimo Ray tracing puro Se non fosse che questo titolo Ha più input lag Veramente Di un gioco PC Da 15 fps Del 98 Vi direi anche Che è piacevole Però devo essere onesto Integrare il ray tracing Introduce un elemento Abbastanza alto Di input lag Se andiamo a utilizzare Poi anche il DLSS Questo gioco Lo sento sempre Un po' affaticato Ecco Un girato sul Call of Duty Un preset grafico Extreme Prepotenza Dynamic resolution Manco per le palle C'ho una 4090 Figlio mio Path tracing Più ray reconstruction Mi sembra una buona idea In un gioco Competitivo Ok adesso magari Lo vogliamo il DLSS Grazie Sì 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 Questo non è il DLSS Aspetta Mi scusi dottore Dove posso trovare Il DLSS Ah upscaling Che stupido DLSS Showmore Abbiamo bisogno di un po' di performance Abbiamo messo il path tracing Figlio mio Non mi ricordavo che Call of Duty Avesse il path tracing Come si gioca sto gioco Non capisco più niente Sono vecchio Vorrei provare C'è la beta di Black Ops 6 In questo momento Però non mi hanno dato La key del gioco E siccome non so se me la daranno Voglio evitare di comprarlo E poi Avere due copie Perché mi darebbe fastidio No Quindi sto saltando la beta Di Black Ops 6 Per questo Sono molto arrabbiato È un Black Ops 6 Il mio Call of Duty Cioè Black Ops Il mio Call of Duty preferito Ok Facciamo sì Una partita razionalissima Ragazzi ma cosa vuol dire Che stiamo Ma scusate Ma l'ha preso il path tracing No dai Lo toglie il multiplayer Palese No no È on Path tracing bilanciato Questo qui lo mettiamo bilanciato A sua volta Scusate ma com'è possibile 200 validissimi FPS Con il path tracing Com'è possibile Interessante Interessante Esperienza fluidissima Esperienza fluidissima Niente da dire Non vedo però Riflessi da path tracing No Online non lo usa Palese Solo per la campagna 200 validissimi FPS In 4K Respond disabled Pure Ma in generale Direi 4K Nemmeno percepito Non che avessi Particolari dubbi Molto bene Allora due cose Solo per il meme Voglio provare a fare 1000 FPS Su Overwatch Perché è abbastanza leggero Vediamo se Se ci riesco Allora Abbiamo palesemente La sincronizzazione verticale Qualcuno mi può spiegare Perché il 9950X Sta facendo 90 gradi Al 23% 130 watt Ma soprattutto Perché sta facendo 130 watt Caldissimo A livelli inverosimili Quindi proviamo a fare 1000 FPS Mi sembra la cosa più razionale Da fare in assoluto Con una build top di gamma Allora Prima di tutto Ci mandiamo a 144 Hz Perché evidentemente Non li stai prendendo Poi Frame rate Custom 300 Ne vogliamo 600 Possiamo arrivare massimo a 600 Ok Proviamo a colmarlo Tutti V-Sync off Ok NVIDIA Reflex Ok Qualità grafica Mettiamo epico Però mettiamo dentro L'NVIDIA Raga Sto facendo così tanti FPS Che vedo il futuro What? What? Activision Blizzard Signore e signori Campioni del creare i giochi Aspettate Proviamo a rientrare Ok Adesso dovrebbe funzionare Oltretutto Il 9950X È tornato a consumi normali Me li fai Siste i 100 FPS? Signore e signori Activision Blizzard Sotto Xbox E la sua guida illuminata Che cos'è sta schermata? Perché i colpi arrivano Mezz'ora Cioè stiamo facendo 600 FPS Però così non ha senso E se vado tipo Boh in una Hero Mastery Comunque vi faccio notare Che siamo in 4K E che la scheda video Sta venendo letteralmente Massacrata per fare FPS Stiamo avendo Un consumo Di 426 Watt È incredibile Wow È il gioco Che ha massacrato Di più No No Non ci Sono preoccupato ragazzi Ho rotto il gioco A suon di FPS Ma è la Super Resolution Che non ti piace? No Forse sono gli FPS Vabbè Comunque arriviamo Circa a 600 FPS Anche senza la Super Resolution Ok Avevo solo questa Necessità fisica Di fare 600 FPS Su un gioco Mi sembra giusto Oltretutto siamo in 4K Certo un gioco Di quasi 10 anni fa Quindi ci sta Ok Funzionale Ragazzi scusate Stavo per compiere Un crimine terribile E chiudere questo video Con l'assenza Di Hellblade 2 Letteralmente La grafica fatta a gioco E adesso vediamo Come gira Sono curiosissimo Ma già visto I filmati introduttivi La mia testa è esplosa Per grafica Sì Ti concedo del DLSS Perché è enorme Questo gioco Però niente Frame Generation Qualità alta Setting avanzati Non ha il Ray Tracing Interessante Ok Non mi ricordavo Che non ci fosse In questo gioco In particolare Ma onestamente Questo qui È tipo Red Dead Redemption 2 Che al tempo Uscì il Ray Tracing La gente dice Ma perché non c'è Il Ray Tracing Perché raga Tanto la qualità visiva Che conta È quella Quella percepita È la meraviglia Che potete visualizzare In un titolo E se non ne hanno bisogno Non ne hanno bisogno Cioè Tolto il fatto Che vabbè La stanno aiutando Le bande nere ai lati Che aiutano tantissimo E Assurda la grafica Di sto gioco 80 fps Ma raga Questo è il motivo Per cui pagherei Per una 4090 O perché comunque Ne ho voluta una Oltre che per i test Cioè Guardate i riflessi Sulla sua pelle Guardate i capelli Guardate il vestito Genuinamente Sembra un film Cioè Tolto il fatto Che lei abbia appena Infilato la testa In una roccia Ma questo è un altro discorso Guardate l'acqua Genuinamente Se in questo momento Non sapessi Che un gioco Penserei sia Abbastanza La scena di un film Siamo lì eh Wow Mi rimane un gioco Tutto quello Che ho detto su Wukong Io questo gioco Ancora non l'avevo aperto O guardato È un film Ma come gli è venuto in mente Di fare una roba così assurda Ma è perfetto I riflessi sul braccio Sono assurdi Visivamente gioco dell'anno Non so come sia il gameplay La trama e tutto il resto Visivamente gioco dell'anno Niente da aggiungere Wow Ma poi siamo a 90 fps Comunque Non è Non è poco eh Cioè Per una qualità del genere È bene Poterli spendere così Sì sto usando il DLSS È vero Però Ragazzi Ma è incredibile Quanto Sono stato ignorante Non aprirlo mai Sto gioco Mamma mia Me ne pento tantissimo Oltretutto dura nove ore Ma chi me l'ha fatto fare Lo finisco in un giorno Inumano Ma anche il gameplay Mi sta trasmettendo Lo struggle di questa donna Nel salire di questa roccia Mi sta venendo l'ansia Wow Non mi sono mai sentito Così tanto connesso a un gioco Boh Vabbè Insomma Questi erano un po' di giochi 2022 2023 2024 Che si sono potuti rapportare Con la mia 4090 Come avete potuto vedere In generale Una scheda che ancora Anche con impostazioni grafiche Illimitate Veramente sparate Al massimo Inutilmente Che comunque potrebbero essere Sostituite tranquillamente Banalmente da un preset alto E quindi recuperare FPS in maniera Decisamente più efficiente Stiamo parlando Di una situazione In cui la scheda Ovviamente ancora Si difende bene Voi mi direte Grazie al bene amato Volante volatile Ma è comunque Una scheda che proprio Nel mese di settembre Si sta iniziando ad avviare Al suo secondo anno di vita Quindi di per sé È importante anche ogni tanto Fare un check E ce la fa Il DLSS Sicuramente l'aiuta Così come tutte le altre Tecnologie di controllo Frame generation Cosa del genere Il ray tracing ancora Se lo spara bene Tranquillamente Giochi competitivi Nemmeno li percepisce Veramente incredibile Però di per sé Devo dire Che il pad tracing Per quanto non sia Assolutamente vitale Mi sa che sarà Proprio la tecnologia Che farà da Ago della bilancia Per il passaggio Alle top di gamma Della prossima generazione Cioè Se dovessi dire Un motivo per prendere Una 5090 Avendo ora una 4090 È che probabilmente I futuri giochi Ne faranno un'implementazione Più larga Si spera che il DLSS 4 Renda inutile L'utilizzo di schede video Di questo calibro Per ottenere Delle prestazioni invalide In quel contesto Però di per sé Questa è stata l'esperienza Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Con 2000 like E 100 commenti Vi ricordo che facciamo Il video stesso Cercando di far funzionare Tutto quanto Con build Veramente low specs Tipo basse basse 1080p Che prova ad andare Al meglio delle sue possibilità Fatemelo sapere voi Cosa ne pensate giù nei commenti Noi ci vediamo al prossimo video E stati su MordenTech Ciao a tutti 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 Grazie a tutti